Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisse. In apertura vogliamo ricordare Vittorio Pizzuto, venuto a mancare all'affetto dei suoi cari. Vittorio era soprannominato il nonno di Monacilioni e probabilmente, aggiungiamo noi, del Molise perché era nato nel 1916 e quindi aveva la veneranda età di 105 anni. Nella sua vita nonno Vittorio ha lavorato alacremente ed aveva una piccola azienda di trasporti di persone nel post-guerra. Insomma si era attivato in questo senso, con questo trasporto di persone appunto con la quale veicolava i suoi paesani nel capoluogo di regione e nei centri limitrofi a Monacilioni. Ai figli Mena, Vincenzo e Peppino va davvero la solidarietà più affettuosa da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolisse. Calcio di Serie D si apre domani il ricco programma dei recuperi del Girone F, solo Campobasso e Recanatese in campo domenica. Tutte le altre società hanno optato per l'anticipo Agnone fermo ai box. In pratica il fine settimana di sosta, che è diventato semilavorativo per così dire, si concentrerà quasi tutto domani, fatta eccezione soltanto per Campobasso e Recanatese. Mentre Agnone Pineto, recupero inizialmente stabilito per domenica, è stato rimandato al 24 marzo prossimo, sempre per la situazione contagi nel Pineto. Si tratta del nono rinvio per gli abruzzesi. La notizia del giorno del recupero è apparsa sulla pagina Instagram della società unitamente a quella dell'ingaggio dell'attaccante ex-isernier notaresco Giacomo Romano. Contestualmente il Pineto ha voluto rivolgere un agurio di pronta guarigione al suo tesserato Fioretti, che proprio ieri è stato operato al crociato. La situazione del Pineto rimane critica. Inoltre va detto che avevano ottenuto l'anticipo anche Castelfidardo-Fiugi, oggi alle 12 questa gara è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi. Mentre c'è un rinvio del rinvio, cioè Porto Sant'Elpidio-Olimpia-Gnonese, per persistenti contagi nelle fila marchigiane. Ad oggi Pineto e Sant'Elpidio sono le società che soffrono questa problematica. Certo è che fra rinvii Covid e per maltempo non è semplice rifare il punto della situazione sui match da disputare. Il Campobasso è pronto a giocare la sua ventesima partita. La Recanatese arriva a Selvapiano non nelle migliori condizioni. Per i marchigiani, una delle squadre più penalizzate da rinvii sarà di contro la diciassettesima gara. Il computo ovviamente è sullo 21 da calendario. I due tecnici rosso-blu lavorano su più fronti, non solo quello di preparazione al match, ma anche quello relativo al mercato. La prossima settimana arriverà un nuovo portiere per il ruolo di secondo. De Angelis conferma varie trattative e non poche difficoltà a reperire un esterno classe 2002, merce rara, al mese di marzo inoltrato. La società è orientata ad un portiere siander, ma non del 2002. Una classe di età non troppo fortunata per Cudini, gravemente infortunati sia caricati che piga, mentre lo stesso De Biase, da poco in rosso-blu, è reduce da un lungo periodo di inattività e sta accusando dei fastidi muscolari. L'Olimpia nionese starà ai box soltanto per qualche giorno. Il confronto con i marchigiani del Porto Sant'Elpidio è stato rimandato a mercoledì 17 insieme ad altri recuperi del girone. Va detto che sia Granata che gli elpidienzi versano in una crisi di risultati atipica rispetto agli ultimi anni. Già il confronto con lo scorso campionato è abbastanza eloquente. Dopo 21 giornate, l'ultima della classe di un anno fa era la Iesina a quota 12 punti, ora le ultime due ne hanno appena tre. Inoltre, un anno fa agonistico, gli altomolisani avevano ben 30 punti e la salvezza quasi in cassaforte. Va detto altresì che dopo un breve periodo di separazione di qualche settimana si sono ricomposte le strade dell'Olimpia nionese e di Mariolandi. Il portiere avellinese è tornato in Alto Molise e da qualche giorno ha ripreso gli allenamenti con la squadra. Dopo la nona sconfitta consecutiva giunta mercoledì contro il Montegiorgio e il Riete ha deciso di esonerare il tecnico Stefano Campolo, ancora ignoto il nome del suo successore. Mentre si conosce quello del Porto Sant'Elpidio che dopo l'esonero di Mister Tredici ha chiamato in panchina l'ex vastese Ottavio Palladini. Domani in campo Vasto Girardi Tolentino al Ditella si recupera l'ultima gara del girone d'andata. Scende in campo domani il Vasto Girardi che al Ditella ospita il Tolentino in un match inizialmente programmato mercoledì 10 e rinviato causa neve. La squadra di Misterra prospera e il morale alto visti gli ultimi risultati e l'ottimo campionato fin qui disputato. La vittoria esterna nell'ultima partita firmata a Ruggeri con una splendida punizione al minuto 88 ha dato grande indusasmo a tutto l'ambiente oltre a tre punti pesantissimi in classifica che proietta gli alto molisani al quinto posto provvisorio con 33 punti conquistati frutto di nove vittorie, sei pareggi e soltanto quattro sconfitte con 32 reti fatte e 20 subite. Sulla strada di Ruggeri e Soci ora ci sarà il Tolentino squadra in ripresa anche se viene dal brutto capo per 2-0 sul campo del Real Giulianova ma capace poche giornate fa di infliggere un pesante 4-0 alla capolista Campobasso. I marchigiani allenati da Mister Mosconi puntano tutto sul tridente Tortelli, Severini e Minella per lasciare la zona play-out. Di contro ci sarà un vasto girare di carico e pronto per continuare a stupire. Mister Prosperi contro i Cremisi per centrare la quarta vittoria consecutiva è intenzionato a confermare l'undici vittorioso a reti. Guerra in porta, linea difensiva composta da Gugliel, Meruggeri, Pacciardi e Raucci Mele davanti alla difesa con Minchillo e Pesce ai lati. Guida non si tocca dietro del bomber Merkai e Stratino con i vari Acunzo, Maniscalchi, Bruni e Fioretti dalla panchina pronti a subentrare. Partita molto importante per il giallo-blu. Un successo domani vorrebbe dire toccare quota 36 punti e avvicinare sensibilmente la salvezza. Obiettivo numero uno in casa Vasto Girardi. Al di tela con fisco di niso fissato alle 14.30, Vasto Girardi-Tolentino sarà diretta da Stefan Arnaud di Padova, codificato dagli assistenti di linea Giulio Pancani di Roma 1 e Paolo Cozzuto di Formia. Domani in campo anche il Matese che al Ferrante ospiterà il Giulianova. Continuare a volare è questo l'obiettivo dell'FC Matese di Corrado Urbano, impegnato domani pomeriggio nel recupero della quindicesima giornata di campionato. Al Ferrante, calcio di inizio fissato alle 14.30, arriva il Real Giulianova con la direzione di gara affidata ad Angelo Tomasi della sezione di Lecce. I biancoverdi padroni di casa hanno tutte le intenzioni di proseguire nel momento magico che li vede in serie positiva da ben otto turni, ma il Giulianova da par suo venderà carissima la pelle per continuare la risalita dopo la vittoria interna contro il Tolentino. Padroni di casa che si presentano alla sfida con il morale altissimo, forti dei risultati maturati nelle ultime settimane, arrivati grazie a prestazioni di grande spessore, fatte di qualità e quantità. Un gruppo unito e compatto, quello del Matese, uscito se possibile più forte dallo stop forzato a causa del Covid-19. Un gruppo che Mister Urbano ha saputo plasmare a sua immagine e somiglianza e da bravo direttore d'orchestra è riuscito ad ottenere il massimo da ogni singolo interprete. La classifica sorride a Galesio e compagni, con 27 punti all'attivo e all'orizzonte un posto nei play-off che se da una parte suzzica l'appetito, dall'altra non deve portare a distrazioni che potrebbero costare caro. Dal punto di vista tecnico, Urbano potrà contare sul rientro del centrocampista Pasquale di Lullo e mandare in campo a grandi linee lo stesso 11 che ha pareggiato con l'Aprilia, schierato con il consueto 4-4-2. In attacco, speranze realizzative affidate al duo Galesio-Abreu. Il Giulianova andrà a caccia della grande impresa, ma il Matese, visto all'opera da diverse settimane a questa parte, ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutti. Sognare non costa nulla. Basket femminile di serie A1. Torna in campo la Molisana Magnoli a campo basso. Domenica arriva il sesto San Giovanni. Mancano cinque giornate al termine della regular season. Le ragazze di coach Sabatelli hanno tre opzioni. La zona play-off che parte dall'ottavo posto, mantenere la nona posizione, unico piazzamento che garantisce la salvezza diretta, evitare i posti successivi che manderebbero le rosso-blu ai play-out. Nel weekend tornano in campo le formazioni di pallavolo con il favore del campo sia il Cusso Molise che la nuova pallavolo Campobasso. La palestra di Villa de Capua di Campobasso si appresta ad ospitare un weekend ricco di match. Per il campionato di Serie C interregionale di pallavolo maschile, l'Energy Time Cusso Molise domani con il primo servizio alle 17.30 riceverà gli abruzzesi del Torrione Volley. Un avvio di campionato più che positivo per i ragazzi di Mister Maniscalco che guidano la classifica con nove punti a punteggio pieno e che quindi mirano a prolungare la scia di vittorie. L'ultima gara li ha visti dominare il campo di casa contro il Chieti Volley dando prova di una grande organizzazione soprattutto nel reparto difensivo. Sul fronte avversario invece seconda partita da giocare per gli Aquilani che invece non hanno esordito al meglio, perdendo infatti per 3-0 con il Monte Silvano. Sul fronte femminile domenica sempre la palestra comunale di Villa de Capua alle 17 sarà la cornice del terzo turno sulla carta per il campionato di Serie C femminile. L'Energy Time Nuova Pallavolo Campobasso ospiterà per la seconda gara consecutiva ed effettiva in casa le ragazze della Loco Volley. Attualmente il team di Raffaele Di Cesare milita in quarta posizione con due punti guadagnati, appaiata alla Volley Junior Ortona ed è reduce da una vittoria al tie-break contro la Volley Penne per 3-7-2. Da sottolineare che le Campobassane hanno un match da recuperare contro le prime in classifica del Chieti, gara che è stata rinviata a data da destinarsi. Sul versante avversario le ragazze di Coach Longobardo provengono da una vittoria per 3-7-0 in casa del Chieti, occupando il terzo posto in classifica quota 3 punti. Unica partita giocata ad oggi causa rinvii delle prime due gare. Appuntamento a domani e dopodomani con un campionato che per entrambe le formazioni del capoluogo non sarà semplice ma che potrà regalare molte soddisfazioni. Nel weekend riprende anche la massima serie nazionale di calcio a 5. Sarà derby tra Acqua e Savone e Color Max Bescara. Squadra in campo stasera alle 20. La Feldi Eboli in mezz'ora più tardi ospiterà il Real San Giuseppe Laniene domani alle 18 con il favore del campo contro il Padova. Il Genova invece sarà ospite della Camp Dosson domani alle 18.30. Adesso i calendari della serie A2 e serie B di calcio a 5. Campionato di serie A2, girone C, Cus Molise, Bulldog, Lucrezia, Capurso, Visgubbio, Cobà, Tretico Cassano, Giovinazzo, Castelfidardo e Manfredonia, Tombesi, Ortona. Scendiamo in serie B, girone G, questo è il quadro, Barletta, Sporting, Venafro, Bisceglie, Real Adem, Itri, Aquile, Molfetta, Mirto, San Michele e Torre Maggiore, Chaminade. Domani pomeriggio alla palestra a Sturzo gioca il Cus Molise contro la Bulldog, Lucrezia, sfida decisiva in ottica playoff. In serie B la Chaminade dopo tre gare con il favore del campo torna in trasferta, infatti domani sarà ospite del Torre Maggiore. 4 su 4 nelle qualificazioni a Euro 2022 per l'Ital Futsal con la vittoria sul Belgio, la nazionale italiana di calcio a 5 ha staccato il pass per la Kermess olandese. Con il successo sostenuto martedì gli azzurri si qualificano aritmeticamente per Euro 2022, ora certi di chiudere a primo posto il girone che oltre al Belgio comprende Montenegro e Finlandia. Dopo il turno di sosta per la nazionale riparte il campionato di A1, chiamata a riscatto l'Acqua e Sapone che questa sera in anticipo riceve la Color Max Pescara. Nel derby cittadino il passo falso dell'ultimo turno, pareggio in casa del fanalino di coda a Genova, è costato alla squadra di Scarpetti il primo posto in classifica a discapito del Pesaro. Il derby è sempre il derby e racchiude diverse difficoltà, va detto altresì che il divario tra i due roster è enorme, ben 32 punti di differenza in classifica tra le due squadre e l'Acqua e Sapone non può permettersi un ulteriore passo falso. Anche perché la capolista Pesaro sarà impegnata domani in casa del Sandro Abate Avellino, un match senza dubbio complicato in casa della quarta forza del torneo. Derby anche per la Ferli e Ebboli contro il Real San Giuseppe, per la squadra di Umberto Caruso è l'occasione propizia per blindare i playoff. Nel campionato di A2 il CLN Cusmo Lise riceve il Bulldog Lucrezia. Alla palestra Sturzo la squadra di San Gennaro cerca un successo chiave in ottica playoff. Il periodo è senza dubbio negativo, gli infortuni hanno condizionato il cammino dei Cussini. La strada tracciata resta di altissimo livello. L'obiettivo salvezza non è mai stato in dubbio, la squadra è in piena lotta playoff ed è arrivata la ciliegina sulla torta della Final Eight di Coppa Italia da giocare a metà aprile. La flessione era assolutamente preventivabile, fisiologica. Certo l'assenza di Barrichello per quasi due mesi ha giocato un ruolo decisivo. L'asso brasiliano è tornato in campo sabato scorso a Cassano, ancora non al massimo della forma. L'auspicio è che domani il Classe 95 possa tornare ad essere decisivo. Il successo manca da un mese, 3-0 al Castelfidardo. In classifica i Cussini sono quarti a pari punti con la Tombese-Ortona, con più tre proprio sui Bulldog Lucrezia. Ecco perché l'incontro di domani è assolutamente decisivo per l'obiettivo playoff. Mancano solo tre gare di campionato più il recupero con il giovinazzo. A proposito, la divisione calcio a 5 ha modificato il calendario per permettere la disputa di diversi recuperi. Le ultime due giornate di campionato sono slittate al 10 e dal 24 aprile. Dunque si gioca domani, poi si torna in campo il 10 aprile, ovviamente recuperi esclusi. Il Cusmo Lise giocherà infatti martedì 30 marzo in casa contro il giovinazzo, una gara prevista addirittura nel girone d'andata. Questo è il nuovo programma stilato. La sfida a Lucrezia è decisiva per mantenere la posizione playoff con solo i quattro gare rimaste da giocare. Mister Sanginario recupera anche Turek dopo la convocazione in nazionale. Senza dubbio una notizia positiva in questo momento particolare. Nel campionato di Serie B in campo la Chaminade domani in trasferta a Torre Maggiore. Peccato per la sconfitta nel derby contro lo Sporting Venafro maturata martedì per il rosso-blu di Cavaliere. La Chaminade ha dimostrato carattere e voglia di lottare su ogni pallone, determinazione nel voler raggiungere l'obiettivo della salvezza. Altresì manca esperienza. Nella fase decisiva del derby sul 2-2, due tiri liberi in favore e la superiorità numerica di un uomo non sfruttata al meglio. Poi il colpo del KO con la rete decisiva del bianco-nero Diezza due minuti dalla fine. Lo spirito dei giovanissimi rosso-blu è davvero invidiabile e sulla base del sacrificio si può raggiungere la salvezza. La classifica ora è complicata, meno 5 dallo Sporting Venafro e dal Barletta, un distacco non semplice da colmare. Ci sono ancora diverse gare di campionato, 5 più il recupero avrei visto martedì prossimo in casa del San Michele. L'ultimo posto in classifica non vuol dire retrocessione diretta, bensì play-out da giocare contro un avversario ad un altro girone. Fermo restando che ancora non ci sono notizie sulla ripresa dei tornei regionali di calcio a 5, una condizione che potrebbe prevedere anche un blocco delle retrocessioni. Parliamo di eventualità, l'obiettivo di rosso-blu è provare ad espugnare il campo del torne maggiore domani per ottenere quel successo che manca dalla prima di campionato. Serve un'iniezione di fiducia alla squadra anche in ottica di un play-out da giocare. Nuoto soddisfatto dei risultati dei suoi ragazzi Petrella, tecnico dell'H2 o Sport. Il club bianco-rosso è impegnato nelle qualificazioni ai prossimi campionati italiani. Giorgio Petrella, allenatore dell'H2 o Sport, quarta tappa della Coppa Tokyo. Come è stata la preparazione per queste gare così importanti? La preparazione è molto lunga, parte già da settembre. C'è prima una parte atletica, quindi una parte a secco, poi si rientra in acqua ai primi di settembre per poter gareggiare nel migliore dei modi, poi verso febbraio-marzo dove si concentra il periodo competitivo. Noi ci presentiamo a questo appuntamento con i ragazzi che sono in forma. Io li vedo bene, hanno gareggiato al meglio, hanno migliorato, come ho detto, i loro personali e cercheremo di staccare il più possibile dei tempi per rientrare tra le prime posizioni in graduatoria italiana. Da molto tempo ormai il pubblico non è presente sugli spalti. Quanto è importante la loro presenza? Sì, questo è un peccato perché il pubblico trasmette energia e quindi uno stadio del nuoto vuoto è come uno stadio di calcio vuoto. Quindi alla fine l'energia dobbiamo ricercarla dentro noi stessi. Sappiamo che il pubblico c'è però è fuori e la ricerchiamo dentro di noi. È un aspetto mentale e psicologico che deve essere alimentato per un atleta. Atletica Leo Paglione, portacolori del gruppo sportivo Virtus, è concentrato sul prossimo impegno, la festa del cross, campionati italiani individuali in programma domenica a Campi-Bisenzio-Firenze. In terra toscana il forte atleta molisano si cimenterà nel cross corto di tre chilometri. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio! Grazie a tutti!